Sì, i miei libri conservati in questa biblioteca hanno un odore molto particolare. Hanno sì i libri? Oh no! Io passavo le giornate qua dentro, se non sono neanche in grado di restituire in tempo un libro, allora che razza di principessa posso essere? Quella che commette errori come chiunque altro. Fidati, una volta riconsegnato il libro ti sentirei molto meglio. Grazie Spike. Andiamo? Ho un libro da restituire. Salve Princess Twilight, che piacere averla tra noi. Le posso consigliare un buon titolo tra le novità? Quella è la nuova edizione di Le Sette Teorie su come piegare il tempo. Mi aspettavo la pubblicazione da... No, niente libri per oggi. Grazie. Dovrei parlare con Dusty Pages di un... Argomento molto delicato. Con chi scusi? Dusty Pages, la bibliotecaria, lavora qui da sempre. Mi deve perdonare, non la conosco. Ora posso aiutare la nostra miglior tesserata della biblioteca in qualche maniera? Chiedile dover istituire un libro in ritardo non è un dramma. Succede in continuazione. No, a me non succede. Va bene. Va bene! Oh no! Dovrò pagare anche una penale? Un ritardo come questo mi costerà un migliaio di monete! Lei deve rendere questo libro in ritardo. Beh, che problema volete che sia? È una cosa piuttosto comune. Vedi? Lo devo solo cercare nel catalogo. 1-8-9-0-5 l'ha trovato! Oh no! Non si vede un ritardo simile da... Ecco, direi mai. Dovete andare da First Folio nell'ufficio delle restituzioni di libri super in ritardo per poni che dovrebbero mettere più giudizio. Già, il nome è tutto un programma, non è vero? E questo ufficio dove si trova? Nel seminterrato, per nascondersi dalla vergogna. Wow! Sembra che nessuno sia mai sceso qui sotto. Nessuno, eccetto qualche raro pony inaffidabile a cui è dedicato lo squallore di questo corridoio. E i loro fedeli compagni draghi? Ah, guarda! First Folio ha messo un biglietto sulla porta. Lasciate ogni speranza o voi che entrate? Sono al ristorante per la pausa pranzo. Ci tocca tornare più tardi? No. Non posso più aspettare, voglio restituirlo. Il tempo di arrivare qui è l'amore salita di... Di altre 17 monete! Andiamo al ristorante. Bene, stavo morendo di fame. Ah, tu intendi a cercare il First Folio. Mi accontento di un takeaway! Vedi qualcuno che assomiglia a una bibliotecaria? Twilight, me l'hai già chiesto nei tre ristoranti precedenti. Mentre la mia penale stava salendo di altre 26 monete! Cameriere, possiamo ordinare? Oh, io non sono... Chris, Musa e due specialità al curry. Penso siano sufficienti per due? Fossi in voi, ordinerei anche del nan. Che ne dite? Sembra perfetto. Twilight, sei davvero tu? Moon Dancer, ma che piacere! Mi trovo a Canterlot, per pura casualità. È un vero piacere vederti. Sono qui a pranzo con la mia amica First Folio. Vuoi unirti a noi? First Folio, certo! No!